Sta per tornare la primavera con le sue mareggiate e a Pescara si torna a parlare del dragaggio del porto turistico in maniera polemica, a lanciare l'allarme l'asso nautica di Pescara nella figura del presidente Francesco Di Filippo che ha richiesto un intervento rapido delle istituzioni per evitare che il porto venga chiuso come nel 2011 con gravissime ripercussioni economiche e sociali per tutta la città. Noi vogliamo richiamare l'attenzione sul fatto che l'ingresso del marino di Pescara rischia di insabbiarsi e otteneremente determinare la chiusura del marino ma l'appello è attenzione qui non si tratta di fruizione del tempo libero di alcuni appassionati ma si tratta di una perdita economica per la città se basti pensare dati alla mano concreti reali non eclatanti che per via del fondale non garantito già adesso abbiamo perso la possibilità di tenere qui a Pescara diverse manifestazioni di vela internazionali compreso il mondiale che è stato fatto ad Ancona abbiamo perso 2 milioni di euro di indotto solo per tre manifestazioni ma ne abbiamo perse tante altre in più ci sono operatori che lavorano all'interno del marino di Pescara società di charter che non sanno se devono uscire perché tra un po' alla prossima mareggiata rimarranno imprigionati per cui attenzione agli enti accelerate assolutamente le attività amministrative per dragare il marino di Pescara perché altrimenti sono a rischio altre perdite economiche altre manifestazioni importanti che devono essere fatte che i circoli stanno cercando di mantenere questa ma assumenti una responsabilità e soprattutto c'è un danno economico importante che si produrrà è importante procedere assolutamente non sottovalutare l'aspetto economico di una struttura che è stato un gioiello per la città di Pescara e per l'intera regione è stato costruito in tre anni è stato realizzato da un ente pubblico proprio perché produttore di reddito come ha dimostrato con i numeri e adesso non possiamo con le pastoie amministrative burocratiche non tenere fede a un nome così importante ad un gioiello della nostra città